Buon salvone appassionati di Football Manager! Oggi parliamo di San Marino Challenge. Attenzione perché ci sono ben due sfide con lo stesso nome, ma sono decisamente differenti. La prima l'avevo già vista qualche anno fa, proprio qui su YouTube, dove bisogna utilizzare il San Marino Calcio. Beh, adesso si chiama in un altro modo perché quella squadra lì è fallita. Ma insomma, dispetto del nome, si gioca nel sistema calcistico italiano, ma con solo i giocatori sanmarinesi e bisogna andare a scalare tutte le varie divisioni inferiori fino ad arrivare in Serie A. Ma oggi parliamo di un'altra sfida, ovvero quella di utilizzare una squadra proprio del sistema calcistico di San Marino e con cui dobbiamo provare a vincere ben due trofei continentali. Come tutte le altre challenge che vi ho parlato qui su YouTube, come riassunto, vengono condotte interamente in live sulla piattaforma viola e questa nello specifico la stiamo ancora conducendo. Se volete recuperarla potete venire tutti i giorni domedì al venerdì dalle 18, sabato e domenica invece in live dalle 17. Attenzione, parleremo anche di strategie che si possono utilizzare per raggiungere questi obiettivi, ma vediamo quali sono questi obiettivi. Step numero 1, arrivare a vincere l'Europa League con un club di San Marino a vostra scelta entro 12 anni. Step numero 2, dovrete vincere una Champions League entro 5 anni dalla vittoria dell'Europa League. Come potete dunque immaginare si tratta di una challenge davvero difficilissima, ci sono veramente un sacco di ostacoli. Il primo, San Marino è l'ultimo ruolo del carro per quanto riguarda quelle nazioni che possono portare i loro club a partecipare alle coppe continentali europee. Se infatti si va su nazioni e poi su piazzamenti per le coppe, si può notare come San Marino sia 54esima, peggio di lei non c'è nessuna. Attenzione, può portare sì teoricamente tre club nelle competizioni continentali, ma attenzione, perché partiranno dal primissimo turno di qualificazione. Il campionato di San Marino è molto giovane, è stato fondato nel 1985, la prima edizione è l'85-86 e l'ha vinta il Faitano. In real life invece l'ultima edizione, la 22-23, l'ha vinta il Trepenne che deve il suo nome alle tre gui del Monte Titano, il monte più importante di questa repubblica di archica di San Marino. Quando però abbiamo iniziato questa avventura, chiaramente la zona 22-23 non si era ancora conclusa, quindi abbiamo utilizzato il team che ha vinto il campionato in precedenza, che è poi anche il team che l'ha vinto più volte a San Marino, ben otto, perché quando si inizia la challenge bisogna per forza prendere il team che è impegnato nei primi anni di Champions e ce ne sta semplicemente uno, ovvero quello che vince il campionato. Abbiamo quindi utilizzato la Fiorita, che ha sede nel castello di Monte Giardino, e questa è una cosa molto interessante, perché a San Marino non esistono come in Italia le province e i comuni, ma le amministrazioni sono suddivise in castelli. Poiché dunque abbiamo scelto la Fiorita, che è la squadra che ha vinto nella scorsa stagione il campionato, siamo l'unica squadra sanmarinese che può provare ad accedere alla Coppa dei Campioni. Qua bisogna apprezzare che ci sono due percorsi possibili però, il classico percorso dei paesi che chiaramente hanno un ranking migliore, ovvero il percorso campionato fatto di soli tre turni, e poi invece abbiamo il percorso dei campioni fatto di ben sei turni, e noi ovviamente dovremo partire sin dal primo, quindi sei partite per provare ad accedere alla fase ai gruppi. Seconda problematica, quella finanziaria. Almeno inizialmente questo club ha praticamente un bilancio prossimo allo zero, ha anche zero soldi nei trasferimenti e anche zero come monte in gaggi possibile. Questo cosa comporta? Beh, innanzitutto non possiamo migliorare le strutture, quindi resteranno almeno inizialmente le strutture proprio basiche, e questo vuol dire che avremo un malus nell'allenamento sia per quanto riguarda i giocatori della prima squadra, sia per quanto riguarda i giocatori giovanili. Francamente mi preoccupano più le strutture della squadra principale piuttosto che quelle delle giovanili, perché effettivamente la votazione giovani di San Marino è talmente bassa che, se devo sperare in un sanmarinese, faccio vecchio. Qual è la votazione giovane di San Marino? 29. Questo è un dato che si può recuperare nell'editro pregame, nella sezione informazione di quella nazione, è un valore di 29, praticamente è utile neanche nelle divisioni amatoriali italiane, per farvi capire. Questo è un dato che va da 1 a 200, il Brasile che ha il valore più alto al momento è 163. Capite bene che per quanto questo dato possa fluttuare, San Marino parte veramente da una situazione talmente bassa che non ci aiuteranno mai a livello probabilistico, perché ripeto, sempre nasce un giocatore sanmarinese forte. Attenzione però, perché io potrei anche però avere delle affiliazioni con club di nazioni differenti, e quindi in quel caso ovviamente il PA di generazione sarebbe di quella nazione, non della mia. Certo, a livello probabilistico è difficile che un buon giocatore di quella nazione finisca comunque a nascere nella mia cantera, però se faccio un'affiliazione con un club egiziano loro hanno un PA medio di 125. Come se non bastasse per quanto riguarda San Marino anche l'afflusso giovani è basso, questo vuol dire che il nostro responsabile del settore giovanile avrà veramente pochi giocatori da valutare prima di decidere cosa effettivamente far materializzare a marzo. Come si fanno dunque a migliorare le strutture giovanili e anche eventualmente l'afflusso giovani? Beh, ovviamente bisogna andare in finanze, poi andate su richieste alla dirigenza, dopodiché pigiate su strutture e qui se compagliano queste voci, ovvero miglioramento, studi di allenamento che riguardano la prima squadra o giovanili che riguardano appunto le giovanili, potrete fare questi upgrade. Vi servono però, vi ricordo, dei soldi. Se non compagliano queste voci, semplicemente in quel momento la dirigenza non è interessata a darvi la possibilità di richiedere questa cosa, quindi aspetterete qualche mese o qualche anno, dipende chiaramente dall'ambizione del club e dalla situazione delle strutture iniziali di quel club. Per quanto riguarda invece l'afflusso giovani bisogna andare su collegamenti e poi bisogna pigiare su migliora la tua rete di ricerca. Vi ricordo che di queste richieste ne potete fare al massimo tre in un solo giorno, poi dovete aspettare almeno qualche giorno prima di ritornare a richiedere un'altra volta queste cosine. Io però vi consiglio di non fare troppe richieste nello stesso mese e di limitarvi, altrimenti potrebbero essere maggiori i no che vi potrebbero garantire i dirigenti. Vi ricordo anche che una volta avete fatto la vostra richiesta per ottenere più facilmente un sì anziché un no, è importante che il vostro lavoro in determinazione tra le qualità psicologiche quando create il vostro personaggio deve essere il più alto possibile. Ma non è certo fita qui perché ci sta un altro grande problema, almeno inizialmente, ovvero lo status dilettante per tutti i club sanmarinesi. Cosa comporta questo? Beh, comporta che i club non possono offrire neanche un centesimo per quanto riguarda l'acquisto dei giocatori né per quanto riguarda ovviamente il contratto dei giocatori. Attenzione, come si fa a migliorare lo status professionale? Andiamo su richiesta dirigenza e ovviamente questa volta andremo su finanze, dopodiché pigeremo su status professionale. Attenzione però perché in realtà ci sono dei requisiti che bisogna rispettare per poter richiedere lo status professionale. Ma di questo ne parleremo dopo il primo anno perché ho fatto un esperimento per cercare di capire esattamente cosa riusciva a stabilire se la società ci concedeva o meno lo status professionale. Quali sono quindi i migliori giocatori della Fiorita, ovvero il nostro club? Partiamo da Andrea Brighi, il difensore centrale italiano della Fiorita. Potrebbe al massimo giocare per quanto mi riguarda in Serie D. Andiamo a guardare infatti la storia, è stato persino pensato un po' in eccellenza nella stagione 2016-2017. Secondo miglior elemento, si fa per dire, è Gianluca Vivian, il portiere. Questo ragazzo è stato persino in Lega Pro. Il terzo miglior elemento è finalmente il giocatore di San Marino, il signor Matteo Vitaioli, che vanta anche 76 presenze nella nazionale maggiore. Lui volendolo potremmo utilizzare sulla tre quarti. Non lo vedo benissimo come punta. L'unico giocatore di prospettiva in questa squadra, ma al massimo, diciamo, utilizzabile nel massimo delle sue potenzialità per giocare in Serie C, quindi non utile alla challenge, sarebbe Galip Arapi, un giocatore albanese che potrebbe essere messo a centrocampo. Passiamo adesso alle regole di registrazione. Qui però va detto che dipende molto dal tipo di database che andrete a scaricare. Chiaramente su internet ce ne sono di diversi e non tutti sono della stessa qualità. Purtroppo alcuni mettono regole un po' bislacche e non rispondenti alla realtà. Ad ogni modo esiste lo straniero ed esiste lo straniero extracomunitario, quindi per capireci un giocatore sudamericano sarà considerato extracomunitario, ma un giocatore comunque italiano, quindi non sanmarinese, verrà considerato comunque straniero. Non potete metterne quanti ne volete. Questa decisione quindi forzata tra extroè e straniero, che non troviamo in tutti i campionati europei, ma che troviamo qui a San Marino, serve ovviamente per forzare la discesa in campo, in campionato di un tot numero di giocatori sanmarinesi. Ovviamente il numero esatto può variare da tipo di database che andrete a scaricare, ma non vi preoccupate se non prendete proprio quello realistico, perché tanto la challenge si fonda su quello che fate in Europa e lì chiaramente non c'è database che tenga, verrà rispettato sempre ovviamente il numero di CVN e CVS che impone l'Europa. Quindi non vi preoccupate su database che andrete a utilizzare per sbloccare il campionato di San Marino, che vi ricordo non è giocabile direttamente dalla Sports Interactive su FM23. San Marino è una di quei nazioni che permette anche la doppia nazionalità, quindi volendo si potrebbe provare a nazionalizzare un giocatore e faccio diventare di San Marino. C'è un piccolo problema. Servono 15 anni per poterlo far diventare di San Marino, quindi è una cosa che va assolutamente accantonata come possibilità. Passiamo adesso al mercato, ma vi anticipo che avrete imbarazzo voi, per me, per la qualità veramente bassa, dei giocatori titolari. Prima vi vediamo le schede complete dei titolari e vediamo anche dove partono inizialmente a Nizia Database e poi vedremo la carrellata, diciamo, di tutti gli acquisti. Partiamo dal portiere. Emanuele Zammarion difenderà i pali di questa feodita. Lui, Vivaio Roma, quindi un giocatore che nasce in una cantare importante, ma che poi non ci gioca mai, di fatto, in questa squadra. Finisce a Gubbio e poi al campo basso. Il terzino, sinistro, titolare, è Adrian Goransk, se non lo sapete la pronuncia. Guardate quanto è strano il poligono. Cantera Wolfsburg, sì, ma anche lui, non ha di fatto mai giocato, se non a lotte, team tedesco di divisione regionale. Il difensore centrale con piede sinistro è un sudamericano, nella fattispecie il colombiano, Daniel Beserra. Lui ha giocato praticamente sempre nello suo team, l'Union di Magdalena, ma ha fatto appena quattro presenze. L'altro difensore centrale, sì, ma con piede destro, è Gianfranco Facchineri, canadese, ma anche italiano. Lui prodotto del Vancouver team MLS, ma non ci ha mai giocato in MLS. Completiamo il reparto difensivo col terzino destro, Rafael Nia, lui prodotto della cantera del PSG addirittura, ma anche in questo caso, praticamente, neanche una partita ufficiale. Come vedete, i primi cinque elementi di questa formazione sono tutti con contratto a zero, quindi non abbiamo pagato neanche un centesimo, ma è questo il mercato che dovete fare se volete provare questa avventura. Passiamo qui dal centrocampista difensivo, quello del vertice basso del centrocampo a V, che sfruttiamo con la fiorita. Beh, Jacopo Berardi è un elemento che si trova già in questa squadra, anche se, in effetti, lo hanno pagato praticamente zero, proprio quest'anno. Thomas Cataldi è la mezzala con piede destro. Lui è un Italo però argentino, altro elemento quindi che può essere sfruttato, volendo anche per carriere, nella nostra nazione. Viene dal Gimnasia, ma anche lui non ha fatto praticamente mai una presenza ufficiale. Chicca decisamente interessante. Marco Marozzi, forse qualcuno di voi lo conosce, ha già giocato in realtà in partiti ufficiali. è un prodotto cantera fiorentina, ma ha giocato nella Fermana, nella Virtus Francavilla, e anche a Ravenna. Insomma, questo, attenzione, viene da partite ufficiali della Lega Pro. Passiamo adesso alla tre quarti, lui lo utilizziamo come attaccante esterno sull'auti destra, visto che è a piede sinistro. Giocatore francese, Hamza viene dallo Stade Rem, e non ha neanche lui mai giocato, però, una partita ufficiale. Sempre sulle tre quarti, ma stavolta sull'auti sinistra, perché ha il piede destro, giocherà Sinta. Lui, prodotto Ajax addirittura, ma praticamente è un atto di quelli che non ha mai giocato. L'ultimo pezzo del puzzle, almeno per quanto riguarda i titolari, in attacco, è Ashiri. In realtà lui non sarebbe neanche una punta, ma il tedesco vanta un'ottima freddezza e un'ottima accelerazione, poi ha dei valori anche pessimi, tipo forza, equilibrio. Anche lui è l'ennesimo giocatore che non ha mai giocato. In pratica utilizziamo una valanga di scarti di Articlaba, che non ci hanno minimamente creduto per fare neanche una partita ufficiale. Mi sento un po' come il film Robots, dove ci sono i robot da riciclare che non vuole più nessuno perché sono superati. E noi dobbiamo provare a tirarci fuori qualcosa. Diamo quindi uno sguardo al recap finale di questo mercato. Zero euro incassati, zero euro spesi. Per quanto riguarda i trasferimenti in uscita, quasi tutti sono andati a club di San Marino. Santi, Lunadei, Gasperoni, Grandoni, Brighi, Tiezzi sono quelli in uscita. Mentre per quanto riguarda quelli in entrata, partiamo da quelli che sono stati presi dalla società direttamente da altri club di San Marino per la maggior parte, ovvero Manuel Battistini, Nicola Greco, Davide Cesarini, Michael Battistini, Bojan, per poi finire con Jacopo Berardi ed Enea Segna. Il resto, quindi dei giocatori in entrata, sono stati tutti a costo zero, erano tutti praticamente svincolati dal signor Yanis Saedani fino a scendere, 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 ed arrivare a Giuseppe Pina, che per chi ha seguito la carriera itinerante e come cognome non è molto comunque positivo, almeno come prospettiva. Vi assicuro che non ho mai speso così tante ore per fare un mercato estivo. Non sto scherzando, ho fatto più ore per fare mercato che non per giocarmi la stagione. Lo status dilettantistico della Fiorita, comune però a tutti i club, ovviamente San Marinesi, quando si inizia questa challenge, non ci limita solamente sul mercato, dove possiamo offrire solamente contratti dilettantistici a zero ai vari cacciatori che vogliamo mettere sotto contratto, ma ci limita anche sull'allenamento perché non possiamo andare ad allenare i nostri cacciatori tutti i giorni della settimana come invece si può fare quando si è ovviamente possessore dello status professionista. Questo chiaramente ci pone anche su un ulteriore livello di sfida per quanto riguarda l'organizzazione dell'allenamento. Ovviamente abbiamo già specificato nella lezione 2 della playlist dell'allenamento che gli obiettivi da perseguire quando si fa l'allenamento sono 4 e sono tutti tassativamente, categoricamente organizzati in prima famiglietà, poi legami, poi crescita dei giocatori e poi chiaramente c'è un obiettivo trasversale che si può ottenere in qualsiasi momento della stagione che è il big match, ma quello che dobbiamo fare ovviamente all'inizio sarà sempre ragionare in termini di quelle sette macrovariabili. Non rientro un'altra volta all'interno in proponità in questa dinamica perché l'abbiamo già, ripeto, discussa nella lezione numero 2 della playlist dell'allenamento, però inizialmente voi dovrete utilizzare quelle sessioni che massimizzano la famiglietà. Vi ricordo che già fare due partite a settimana che sono considerate come allenamenti, anche se il gioco non ve lo dice, vi porta ad azzare la famiglietà, dopodiché per i legami dovreste assolutamente andare a massimizzare soddisfazione e affiatamento. Diamo anche lo sguardo alla tattica, ovvero il 4 di Zeman che come vi ricorderete abbiamo già utilizzato nella carriera itinerante con Westbro e Mitchell, abbiamo per vincere da neopropossi la Premier League, un risultato clamoroso. Questa è la fase di possesso come istruzioni, brevemente vediamo anche la fase di transizione e vediamo chiaramente anche la fase di non possesso. Non vado a specificarlo altrimenti in modo perché ripeto, ne abbiamo già parlato quando abbiamo fatto la carriera itinerante e ovviamente tutti gli abbonati della Pietro Roma Viola possono già scaricarlo da Discord dove l'ho messo già diverse settimane fa. Ma bando alle ciance partiamo dai preliminari di Champions di questa primissima stagione perché questa challenge promette una avalanca di batoste per la nostra fiorita. Inizia quindi la Champions, primo turno preliminare contro l'Inter de Scaldes, un team andorrano e la partita viene già sbloccata all'ottavo minuto con questa percussione di Sascha con un tiro in diagonale mostruoso subito in vantaggio i nostri avversari. Questi hanno uno stadio di 236 anime anche se questo essendo chiaramente un turno diciamo che non prevede andate e ritorno è stato giocato a Victoria Stadium quindi uno stadio di Gibraltar. Arriva anche il secondo gol sempre di Sascha e a 77 ovviamente per non farsi mancare totalmente nulla il gol da Cineteca con tiro a giro e palla a fil di palo totalmente umiliati dal club andorrano. Poiché abbiamo perso il primo turno preliminare non si finisce in Europa League ma direttamente in Conference e in questo caso andiamo a sfidare lo Zalgiris un club lituano con uno stadio da 5000 posti ma questa volta noi giocheremo in casa il turno di Conference ma attenzione non giocheremo nello stadio della Fiorita ma giocheremo nello stadio di San Marino perché? Beh perché per poter partecipare alle competizioni europee bisogna avere uno stadio da almeno 8000 posti e devono essere tutti a sedere. Partita quindi che si sblocca già intorno al ventesimo questo calcio di punizione e rete di Pavelic che porta in vantaggio lo Zalgiris che continua ad attaccare ha sprombattuto noi praticamente in campo non ci siamo e arriva anche questo secondo gol in diagonale dei nostri avversari 2 a 0 ma mentre noi vediamo ormai i fantasmi da sconfitta dell'alto turno arriva clamorosamente il gol del 2 a 1 grazie alla percussione di Lago dopo che l'attaccante compagno aveva difeso bene la palla ma poi al 49esimo arriva la mazza definitiva rigore prima sbagliato e poi segnato di vaca finisce qui l'esperienza ovviamente della nostra fiorita ci deve arenare contro lo Zalgiris fuori dalle competizioni continentali già dopo due sole gare due sconfitte in Europa quali campionati abbiamo caricato per questa avventura? ho messo direttamente il file di DT che vi straconsiglio perché va a caricare direttamente le squadre senza caricare direttamente i campionati almeno di quelle più importanti file che potete scaricare chiaramente su YouTube ne abbiamo già parlato creato da me come file dopodiché abbiamo anche messo l'intero continente europeo e anche questi campionati giocabili dall'Argentina fino alla Svizzera passando anche per la Spagna che in questo modo sto oscurando io con il mio volto e adesso non ci resta altro che scoprire come è finita questa prima stagione con la Fiorita in Europa non abbiamo avuto praticamente nessuna chance ci hanno asfaltato tutti cerchiamo però di capire qual è il livello delle squadre di San Marino questa è la Supercoppa di San Marino e affrontiamo il club dei Treffioni subito però andiamo in vantaggio con Marozzi al quinto minuto dopodiché sulla otto sinistra si continua ad attaccare con Sinta che fa un ottimo numero nel recupero del pallone riuscendo a proteggerlo bene e poi va in diagonale e fa il 2 a 0 dopodiché ancora protagonista Sinta guardate però ancora il lancio anche di Marozzi che lo becca così Sinta aggancia con un piede segna con l'altro 3 a 0 secco cosa accade invece in Coppa Nazionale beh al primo turno che passerebbero gli ottavi andiamo a battere la Juveness Dugana con un totale finale di 6 a 4 tra andata e ritorno quarti che si giocano ancora una volta andata e ritorno superiamo i tre fiori con un 7 a 0 di Aggregate in semifinale battiamo la Folgore ancora con un 6 a 1 finale adesso però abbiamo a che fare con la Libertas che ai rigori ha avuto accesso alla finale finale di Coppa Nazionale che non parte benissimo subito il lancione di Gregorio per Betazzoli fanno fuori il centro campo e difesa 1 a 0 della Libertas ma poi sale in cateda Sinta sull'auto sinistra appoggia il pallone sul piede giusto la gira a Cataldi complice un po' il palo un po' il portiere avversario 1 a 1 e alla fine ci pensa sempre lui Marozzi dal dischetto 2 a 1 e si vince quindi la Coppa Nazionale contro il nostro avversario sembrerebbe quindi un campionato almeno inizialmente competitivo guardiamo la classifica direi proprio di no abbiamo venuto con ben 30 punti di vantaggio sulla seconda quindi consiglio personale dedicatevi soprattutto alla competizione europea ed è per questo come dicevo anche in inizio video una da bessa per me vale l'altro perché non vi interessa realmente avere proprio le regole per forza di cose giuste sul campionato di San Marino perché tanto per voi sarà quasi più un fastidio dovete semplicemente arrivare primi ma ci arrivate come avete visto con scioltezza totale le abbiamo vinte praticamente tutte del resto la reputazione del nostro campionato è veramente imbarazzante siamo 169 valiamo mezza stella questo considerando solamente i campionati maggiori e minori europei valiamo meno del sesto livello del calcio inglese come si fa ad attrarre giocatori di qualità e nonostante il treble anche la reputazione del nostro club risulta veramente imbarazzante mezza stella reputazione nazionale l'unica nota davvero positiva sono stati gli incassi perché tra amichevoli tra partecipazioni soprattutto alle copp vedete che la voce più grossa come valore in stagione sono proprio i premi in denaro abbiamo raccimolato un milione per quanto riguarda la conference liga e questo ci ha permesso di migliorare le istrutture anche se chiaramente sono i primissimi livelli quindi valgono veramente pochissimo le istrutture giovanili sono terminate il 31 dicembre 2022 mentre quelle di allenamento della scuola principale il 6 gennaio 2023 diciamoci la verità questo primo anno è stato un completo disastro per evitare questa challenge diventi un'ecatombe a livello europeo dobbiamo cercare una strategia che ci faccia fare un salto di qualità il primo passo magari potrebbe essere quello di accedere a giocatori magari molto giovani che quindi anche se gli offri zero comunque potrebbero crescere tanto se vedebbe una scuola affiliata perché il nostro PA come nazione è molto basso ma come facciamo a cercare una scuola affiliata quindi a noi sottoposta se noi siamo l'ultimo roso del carro in termini di ranking dovremo qui ricercare una scuola di riferimento ovvero una squadra che viene ad affiliarsi con noi ma che è un rapporto di superiorità nei nostri confronti ma ho cercato più e più volte di chiedere alla dirigenza di trovare una scuola di riferimento hanno sempre detto sì ma non ho mai trovato nulla speriamo che questa cosa cambi se no è davvero un disastro come alzare quindi la reputazione non solo si può alzare con comprare giocatori migliori che ovviamente non ci possono venire di qualità perché gli possiamo offrire zero ma anche migliorando le strutture però per migliorare le strutture ci servono i soldini quindi come fare soldi beh inizialmente fare le amichevoli con certi club potrebbe farci ingranare tanti soldi se giochiamo in casa ma ovviamente il grosso lo facciamo cerco di andare più in propondità né tu li preminare di Champions o di altre competizioni europee magari proprio accedere alle competizioni come Gironi non sarebbe male perché vi ricordo che Conference Europa League se accedete al Gironi vi danno circa 3 milioni mentre la Champions 15 sarebbe un salto da così a così certo i soldi sono importanti ma se non acquisiamo lo status professionista non servono quasi a nulla perché non potremo comunque mettere sotto contratto i giocatori con un contratto maggiore di quello di 0 euro senza considerare che finché i nostri cacciatori hanno un contratto amatoriale derivante al nostro status chiaramente direttantistico possono tranquillamente firmare per altri club e noi non riceveremo neanche un grande indennizzo potremo quindi anche scovare il nuovo Messi ma chiaramente lo perderemo a 0 ovviamente ottenere lo status pro non solo è fondamentale per evitare di perdere i giocatori ma anche per fare compravendita alto sistema che potrebbe essere utile per fare soldi e proprio a proposito ho condotto un esperimento offline meno solo da parte questo primo anno che abbiamo giocato in live dove a ogni partita facciamo quindi vedere condizione forma morale e statistica di ogni avversario perché vi ricordo che le challenge non si possono fare con gli editor ho preso offline ripeto un atto save sempre con la fiorita e ho cercato invece di potenziarla in maniera tale che accedesse già al primo anno ai vari gironi di Europa League Conference e Champions come ho fatto? beh tramite l'editor ho diciamo potenziato condizione e forma di tutti i miei giocatori e ho dimezzato mettendo a 50 condizione e forma dei giocatori avversari che andavo ad affrontare rispetto questo è solo un esperimento offline che ho condotto per capire se accedere alle competizioni europee mi portava oltre a un vantaggio di soldi anche un vantaggio nel richiedere lo status professionista quello che ho scoperto è clamoroso perché pensavo che potesse contare anche la reputazione per quanto riguarda la richiesta dello status professionista clamorosamente invece è una questione puramente di soldi una volta che ho avuto accesso alle competizioni europee bastava avere un milione e due a bilancio sia che giocavo in conference sia che giocavo in pariche sia che giocavo in champions e la società mi accettava lo status professionale attenzione perché non arriva subito è molto probabile che arrivi entro la fine della stagione quindi non è una cosa immediata quindi vale più per la prossima ma attenzione mi sono chiesto ma vuoi vedere che è solo una questione di soldi quindi sono tornato indietro e ho chiesto diciamo lo status professionista senza aver accesso alle coppe ma mettendomi comunque un milione e due tramite l'editor di gioco in bilancio non mi hanno accettato lo status professionista allora mi sono detto magari forse è una questione di soldi quando sei fuori dalle coppe ed è clamorosamente così portando il bilancio a 3 milioni sono riuscito a ottenere anche lo status professionista già come richiesta al primo anno senza partecipare alle coppe allora mi sono chiesto ma reputazione un pochino varrà qualcosa sono diciamo tornato ancora con l'editor pregame a fare dei cambiamenti e ho messo reputazione 1 e ho chiesto lo status professionista sempre con 3 milioni fuori dalle coppe me l'hanno accettato lo stesso quindi la reputazione non serve assolutamente a nulla per quanto riguarda la richiesta dello status professionale attenzione però perché se la reputazione non è certo importante nella richiesta dello status professionale è comunque importantissima come meccanica in generale di FM e l'abbiamo già dimostrato in altri esperimenti vi ricorderete per esempio quello in cui ci chiedevamo se era più importante avere uno stadio enorme tanti soldi in cassa o avere zero soldi neanche un grande stadio ma avere una fantastica reputazione clamorosamente la reputazione era la cosa migliore in assoluto perché la reputazione più alta porta ad avere più sponsorizzazioni e porta anche il cacciatore ad accettare il tuo club anziché un altro con reputazione più bassa porta persino il cacciatore alle volte a scendere di categoria pur di andare nel club più blasonato certo magari in quel caso vi chiederà un po' di più di cachet perché comunque si deve abbassare ad un ranking peggiore però ripeto la reputazione è una cosa fondamentale messi quindi da parte gli esperimenti offline ritorniamo invece sul nostro save ma non mi resta a tutto affare che dirvi che in questo contesto non abbiamo né status pro né soldi né una rosa importante quindi probabilmente beccheremo mazzate anche alla seconda stagione vi ricordo che questa avventura la stiamo ancora conducendo in live sulla piatta maiola quindi se volete andarci a spulciare vi ricordo che siamo in live dal lunedì al venerdì dalle 18 sabato e domenica invece anche un po' prima ovviamente su twitch buon salvone e domenica